Invece, invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti, il Ceruttigino. C'è tanta musica non suonata da noi, ma suonata bene dagli altri. Noi cantiamo, non cantiamo bene, cantiamo col cuore, cantiamo con amore, no, scherzo. Non è canta bene. No, no, cantiamo con passione, cioè è un teatro canzone, quindi non è che abbiamo bisogno di fare i cantanti, però trasmettiamo quello che c'è da trasmettere, insomma. In quale teatro migliore che questo? La citazione di Andrè viene colta. Questi sono tutti nostri e poi sfociamo, germogliamo le musiche di Gavere, di Annacci. Ha un po' la passione ovviamente per questi nostri due grandi maestri, un po' alcune affinità che ci sono e che abbiamo con loro due. E quindi un po' la città, un po' dove siamo nati, un po' che siamo nati grazie anche a loro. E quindi portiamo un po' di loro in noi. Non abbiamo trovato, anzi ci ha dato dei vantaggi sinceramente, perché la musica comunque dà energia e quindi riusciamo a dare più energia alla gente e averla in noi. Grazie. 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 Grazie.